50 anni fa Pierpaolo Pasolini realizzava il più bel film su Gesù. Così lo definisce l'osservatore romano nel 2014 e a distanza di mezzo secolo la Puglia rivendica un ruolo, né il Vangelo secondo Matteo. Non solo perché sette di alcune scene, ma perché culla di un sud ancestrale che è stato cuore della visione pasoliniana, il Vangelo di Pasolini. Volti ai luoghi della Murgia, 50 anni dal film di Pasolini, è la rassegna organizzata dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in collaborazione con Gravina in Puglia e Santeramo in Colle e la produzione esecutiva dell'associazione Menir, che da venerdì 10 ottobre al 7 novembre attraversa i luoghi protagonisti della pellicola. Non una semplice rievocazione, ma una proiezione nel futuro, dice l'ideatore Nicola Cesario. In programma incontri, concerti e l'intitolazione di un sentiero del parco a Pasolini, la proiezione del film in vari comuni, la mostra degli scatti di Domenico Notarangelo al fianco del maestro sul set, i quadri coreografici di Giulio De Leo che attraversano la vita di Cristo nei momenti salienti, affidando l'interpretazione a cittadini e ragazzi che hanno frequentato laboratori a tema. Tutti gli elementi che compongono la manifestazione sono in costante dialogo tra di loro, un flusso continuo di riflessioni su Pasolini declinate in vari linguaggi artistici. Terra Cristi, Corpus Cristi, Vultus Cristi sono i tre cardini degli appuntamenti in cartellone, come lo furono per la sceneggiatura di Pasolini, che partendo dalle parole dell'evangelista Matteo, ripercorse la vita di Gesù, legandola indissolubilmente alle asperità del territorio, all'umanità del Figlio di Dio, alle pietrosità delle facce degli attori, tutti non professionisti. La madre di Pasolini è indimenticabile nella sua interpretazione della Madonna dolenti ai piedi della croce. La giovane Maria, Margherita Caruso, sarà in Puglia proprio nella giornata di intitolazione del Sentiero, il 17 ottobre. Tanti gli ospiti che racconteranno l'eredità lasciata dal poeta, l'attualità del suo Cristo in attuale, il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, il regista Genaro Nunziante, il critico Gianni Canova, il paesologo Franco Arminio, i musicologi Roberto Calabretto e Bruno Di Marino. Il Vangelo di Pasolini si sviluppa seguendo varie direttrici, in costante dialogo tra di loro, in tutti gli appuntamenti.